Ciao a tutti, guardate dove siamo oggi, John Forer National Park e qui ci sono una comitiva di canguri dove se venite a Perth e volete vedere canguri da vicino, diciamo wild, nella foresta, questo è uno dei parchi più belli dove incontrarli subito e abbastanza facilmente perché nel resto di Perth non ce ne sono più, quindi bisogna andare un po' fuori e questi sono il gruppo che c'è qua a John Forer National Park adesso andiamo a farci un giro, andiamo a camminare un po' in cerca di orchidee qua nella zona che ci sono dei percorsi meravigliosi e oggi spenderemo la nostra giornata nel bosco Ciao a tutti! Grazie!